Grazie a tutti, Caterina ormai tra alcuni anni sono amici fratelli, non solo con Caterina, ma anche con la parte della successa di Solele, sono amico di molti mancomeresi, naturalmente non posso non ringraziare per l'annese la volta Caterina per questa opportunità che vi viene data di spiegare determinante cose, sono cose un po' complesse, quindi hanno bisogno non soltanto di un'offrenza, di due, di tre, il fatto che bisogna addirittura di un corso troppo identico come si fa in fatto di stare. Naturalmente ringrazio il Comune, soprattutto ringrazio il Comune per poter mettere la mia attiva nel corso della manifestazione per la Piera del Libro, che era un momento prestigioso, so che adesso è stato avversato una piccola, che non potremo, perché sono i tempi, i tempi che sono paradigmi, ma ci sono un tremolo e allora forse le cose non sono più. Io credo che prima di metterci le medaglie bisogna fare molta, molta, molta scuola, cioè pensate che questa avventura, questa avventura, questa avventura iniziata nel 1995, quando se qualcuno mi avesse detto, allora insegnavo nel liceo, mi avesse detto, guardate che esiste una pittura che è un raggio, un raggio, un raggio, un raggio, un raggio, perché anche io sono riempio di quella scuola, quella scuola di Lillio e degli altri, che già come primo approccio all'arteologia aveva quasi un dato consolidato, si dice, cioè che i raggi ci non si avessero un po' però che i sardi non avessero conosciuto la scrittura, se non dopo un certo periodo con Dario Di Finici, voi sapete che adesso a Tampone, a tutti i giorni si sta preparando un mera congresso, dove ci sono tantissime firme, che sono molto prestigiose, che si sta parlando di Finici, si sta parlando di Tunici, i grandi assenti però sono sicuro sono quelli di casa, e ci sono, ma io mi auguro che questi compagni internazionali così come vengono fatti per magnificare in qualche modo coloro che sono venuti in Sardegna, servono anche per magnificare quelli che si cercano, che stranamente vengono un po' naturali, se si dedicasse, o si tessi tanto donato come è stato dato, lo sforzo economico deve essere stato impressionato, come adesso per questo congresso di Barboghi e di Sant'Antio, io ho l'impressione che anche gli studi su quello che mi verrebbero più sicuri, molto più aperti, non ci sarebbero comprensioni e così via, però ne ho parlato troppo e bisogna invece cercare subito di andare al sole. Voi i maconeresi mi conoscete, mi conoscano già, quindi ci sono alcune cose che ripeterò, sono molto poco quelle che ripeto, ma comunque da un momento che sempre conoscere una conferenza si parte dal presupposto che tutti sappiano, mi conoscono qualche cosa da voglio riprescare un po' un po' da metà, per di rientrare nei tempi che sono quelli legittimi della stanchezza, o che non raccontano più a pazientisti, quindi io sono in questo tempo una parte, soltanto, di quello che vorrei dire che riesca a dare. Grazie.